Carissimi studenti, benvenuti in questa lezione. Continuiamo a parlare dell'apparato cardiovascolare, stiamo parlando del sistema vascolare, in questa lezione iniziamo a parlare delle arterie carotidi, perché non dedicheremo soltanto questa lezione per parlare delle arterie carotidi. Qui inizieremo a parlarne e inizieremo a vedere delle arterie molto importanti, che hanno origine dalle carotidi, adesso lo vedremo, e che vanno a formare poi tutto un insieme, un insieme di arterie anastomizzate tra loro, a livello della base del cranio, che prendono il nome di circolo di Willis, da cui hanno origine i vasi sanguigni arteriosi che irrorano l'encefalo. Quindi per il momento voi dovete conoscere queste generalità al riguardo, poi ovviamente continueremo a parlare degli altri rami che hanno origine dalle arterie carotidi. Allora io qui non voglio diluncarmi molto, anche perché queste cose ve le ho già spiegate, le generalità. Voi sapete bene, non saltate mai nessuna lezione, e quindi così non cadete, e sapete bene che dall'arco aortico ha origine il tronco brachiocefalico. Il tronco brachiocefalico sapete che poi si divide in due arterie. Quindi per il momento in due parole, vedete, le arterie carotidi comuni ascendono verso l'alto, e poi a un certo punto si biforcano, dando origine all'arteria carotida esterna e all'arteria carotida interna che continua ad ascendere verso l'alto. Quindi le arterie carotidi interne, di destra e di sinistra, decorrono verso l'alto, vedete, ed entrano all'interno del cranio. Allora, state bene attenti a questa immagine, questo è un mio modello anatomico, state bene attenti, eh? Una vista dall'alto verso il basso, e qui potete vedere, guardate qui, l'arteria carotide interna di destra e l'arteria carotide interna di sinistra. Vedete, eh? Prima le vedevate dal basso verso l'alto, vi ho detto come entrano all'interno del cranio, e dopo essere entrate all'interno del cranio, eccole qui, sono queste. E a che cosa danno origine? Quali rami arteriosi hanno origine dalle arterie carotidi interne, e che sono importantissimi per la vascularizzazione dell'encefalo, quindi del cervello e via dicendo. Allora, voi dovete comprendere questo, un passetto alla volta, piano, 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 ricostruendo il tutto come un puzzle, seguendo queste e le altre lezioni, così potete vedere anche altri modelli, eh? Ricostruzioni in 3D a girare, che vi chiariscono molto meglio le idee. State bene attenti, qui io vi ho fatto un semplice disegnino, dove potete vedere i rami arteriosi, le arterie, alla basse del cranio, da cui poi si dipartono tutti quei rami arteriosi, tutte quelle arterie, che vanno a vascularizzare l'encefalo, quindi vanno a vascularizzare... Entrando nei forami trasversali delle vertebre, ai forami trasversali delle vertebre, a livello della sesta vertebra cervicale. State bene attenti, eh? Perché queste cose le dovete conoscere, io ho già spiegato le vertebre, perché vi ho spiegato l'anatomia dell'apparato locomotore, quindi anche del sistema scheletrico, quindi ovviamente anche delle vertebre. I forami li conoscete? E via dicendo. Quindi, le arterie vertebrali... Ecco qui, schemino molto 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 didattico, al di là di ciò che vedete nel modello in 3D, vi ho disegnato il resto anteriormente. Vedete? Vi ho disegnato il resto, quindi qui potete vedere le arterie cerebrali, l'arteria cerebrale anteriore di destra e di sinistra. Anche in questa prospettiva, posteriormente, dal basso verso l'alto, potete vedere come entra l'arteria spinale anteriore di cui vi ho parlato, e le arterie vertebrali di destra e di sinistra. Dal complesso arterioso che vi ho fatto vedere in precedenza, fino ad ora, quindi dal circolo di Willis, ecco, ve le ho messe anche qui in piccolo, vabbè, ormai ve le avevo fatte vedere. Vedete che nel modello non ci sono, questo è il video, adesso ve lo metto a girare, però considerate che ci sono, eh? E decorrono in questo modo. Poi ve lo farò vedere in ogni caso in altri video nelle lezioni successive. Allora, state bene attenti, io vi ho messo il mio modello anatomico, quindi con il circolo di Willis, le arterie che vi ho già detto, eh? Che vi ho già spiegato. E ve lo metto a girare in più prospettive. Avete tutti i nomi, non vi ho qui, non vi dico nulla. Vi faccio vedere soltanto in 3D, nello spazio, qual è il loro decorso, in modo tale che lo capiate bene. Perché ovviamente se mettete a paragone, diciamo che nega giltare al seccoraje dei teori che vengati,